Grazie a tutti. Qual è stato il risultato di questa ricerca, di questo studio? Abbiamo visto che ci sono 77 paesi nel mondo che ancora criminalizzano i comportamenti omosessuali con delle differenziazioni, ad esempio nella grande maggioranza dei casi si punisce più severamente l'omosessualità maschile di quella femminile, ma 11 di questi stati arrivano alla condanna a morte che può essere per impiccagione come nel caso dell'Iran o per lapidazione come nel caso dell'Arabia Saudita ed è quasi sempre preceduta da flagellazione. Sono casi estremamente gravi soprattutto a mio parere perché oltre alla crudeltà in sé, alla mostruosità in certi casi, ma in generale colpiscono un comportamento senza vittime, colpiscono la sfera più intima, più privata della vita delle persone. Quindi si tratta di violazioni gravissime dei diritti umani fondamentali. Una volta, basta ricordare qualche decennio fa, anche i neri d'America, le persone afroamericane, erano perseguitate più o meno nello stesso modo. Pensiamo che comunque in Italia non c'è questa persecuzione fisica, ma c'è una persecuzione psicologica, a volte una criminalizzazione delle persone. All'estero è la stessa cosa, almeno dal punto di vista psicologico? Anche le persone omosessuali hanno paura di venire fuori, anche le persone transessuali, pensiamo a loro? Naturalmente c'è molta differenza da Stato a Stato. Ci sono degli Stati europei dove da molti anni questo non è più un grande problema. Ci possono essere delle sfumature a livello di comportamenti sociali, ma gli Stati scandinavi o l'Olanda, per esempio, sono fra i paesi dove questa evoluzione è avvenuta prima. Ci sono dei paesi nel mondo, oltre a 77, che prevedono una criminalizzazione nei codici penali. Ci sono molti paesi dove questo comunque comporta uno stigma sociale grave. Parliamo di decine e decine di paesi. Sappiamo che nella stessa Italia l'evoluzione sociale, che pure è stata importante, perché io ricordo quanti progressi sono stati fatti dagli anni 70, all'epoca delle prime battaglie, quando io ero un ragazzo. Anche in Italia ancora ci sono dei casi, delle sfere della vita sociale dove questo rappresenta un problema. Per cui la lotta giustamente adesso in un paese come l'Italia non è più contro la criminalizzazione, ma è per la parità effettiva dei diritti. Siamo in una fase fortunatamente più evoluta da questo punto di vista. C'è un altro dato grave, che non ho esposto nella mia relazione, perché questa era la base per un discorso molto più ampio, che è quello secondo cui in certi paesi, che sono stati tradizionalmente per molti decenni all'avanguardia dei diritti civili, c'è il rischio concreto che si facciano dei passi indietro. Io frequento i paesi scandinavi e vedo che, per esempio, in Svezia i passi indietro sono, a mio parere, notevolissimi. Ha cominciato la Svezia qualche anno fa a criminalizzare i clienti delle persone che si prostituiscono. In pratica definendo per legge che la prostituzione, segnatamente la prostituzione femminile, è sempre una forma di sfruttamento da parte del cliente, della persona che si prostituisce, definita sempre come vittima, per cui c'è una pena, una pena di ammenda, fortunatamente, non di carcere, ma con un forte stigma sociale negativo per i clienti. E' un modo questo per impedire alle persone di avere la vita sessuale che vogliono. Per cui in realtà si colpisce la sfera delle libertà anche della persona che si prostituisce. E questo esempio negativo della Svezia è stato poi seguito da una serie di proposte di legge in altri paesi, perfino in Francia, dove questo per ora almeno è stato bloccato, credo, all'Assemblea nazionale. E dico questo per sottolineare anche in questo caso che i paesi tradizionalmente ormai più all'avanguardia per il rispetto dei diritti possono fare dei passi indietro, a mio parere, molto preoccupanti. E ho citato durante la mia relazione il caso della Russia, molti ormai è noto, per cui la legislazione non ha avuto il coraggio di punire l'omosessualità, che era un reato secondo il codice penale della Repubblica Federativa Socialista Sovietica russa, abolita poi all'inizio degli anni 90 nella nuova federazione russa. Il reato di omosessualità non è stato reintrodotto, fortunatamente, ma c'è una legge che prevede pene per la propaganda delle relazioni non tradizionali, il che è una minaccia alla libertà gravissima perché colpisce la libertà di espressione e di manifestazione. Cioè uno scrittore può addirittura essere condannato a forti pene pecuniarie e subire altri gravi problemi se pubblica un libro dove si parla di relazioni non tradizionali, intendendoli sostanzialmente le relazioni omosessuali. Per cui figuriamoci quale violenza alla libertà di espressione può essere insita in una legge come questa. Tra l'altro è notizia di questa mattina che sempre in Russia saranno puniti con un'ammenda da 50 a 70 euro, oltre che per la detenzione fino a 15 giorni, coloro i quali si baciassero in luoghi pubblici o facessero coming out pubblicamente. E' addirittura ancora più grave se questo avviene in scuole, in consessi pubblici. Sì, infatti sono delle aggiunte al principio iniziale, perché se si comincia a dire che è vietato fare la propaganda all'omosessualità si finisce per colpire anche dei comportamenti che sono di fatto omosessuali o di relazioni non tradizionali, eccetera. La cosa è paradossale perché Putin poi si vuole presentare, cerca di presentarsi come il difensore di valori tradizionali, intendendo in particolare quelli cristiani, nella sua interpretazione della Russia, ma poi finisce nei fatti per adottare alcune leggi che confinano con la Sharia. Allora colui che si vuole porre come un difensore addirittura della cristianità, che è un concetto molto ottocentesco, finisce poi per portare il suo paese passo passo verso delle legislazioni, dei comportamenti amministrativi che ricordano molto i paesi dove è l'Islam che si intreccia con lo Stato. Esportare i diritti civili appunto in paesi dove praticamente i diritti civili non ce ne sono, non ci sono, è un po' come la massima radicale conoscere per deliberare, cioè è un po' come far conoscere agli altri una sorta di cultura della laicità dello Stato e quindi della libertà di scelta che comunque non va a inficiare le libertà altrui. No, infatti la questione fondamentale in cui pure ho accennato è che non si dovrebbe mai punire un comportamento che non ha delle vittime. Allora se si intende per vittima l'ordine sociale tradizionale, allora si puniscono questi comportamenti. Ma da un punto di vista di difficoltà giuridica è veramente un enorme passo indietro per quegli Stati che lo adottino ed è un'enorme remora allo sviluppo sociale per quegli Stati che confermino dei comportamenti di questo tipo. Fra l'altro quando si parla di tradizione dovremmo sempre fissare un termine a quo. Perché quale tradizione? Da quando? Perché noi sappiamo benissimo che millenni fa c'erano delle società, da noi la società atenese per certi aspetti la stessa società romana, quella spartana in Grecia, ma in Giappone. Insomma c'era una società dove il comportamento omosessuale era lodato, non semplicemente tollerato, era abituale, era degno di stima fra le persone di maggiore cultura, di status più elevato. Per cui tradizione da quale momento della storia? In quale specifico consorzio umano regionale o limitato? In ogni caso sempre bisogna consentire alle società di evolversi, non cristallizzarle in una forma che un capo o un gruppo di potere consideri definitiva. Liberi TV dal nono congresso della soluzione radicale di certi diritto ad Arezzo. Ringraziamo Antonio Stango, coordinatore del sesto congresso mondiale contro la pena di morte nel mondo, immagino. Sì, grazie. Grazie a tutti.